Grazie, buona domenica sera, benvenuti. Grazie. Ecco, io qui vorrei davvero chiedere il vostro aiuto e un ascolto molto attento per quel che riguarda il primo ospite di questa sera. Spero che a quest'ora davanti ai televisori ci siano molti ragazzi, molti bambini ed è a loro in particolare che mi rivolgo nel chiedere attenzione e anche aiuto nella condivisione di quello che stiamo per ascoltare a pochi giorni della giornata della memoria, il prossimo 27 gennaio. Filippa, buonasera, a te l'onore di salutare la nostra ospite. È appena uscito per solterino il libro La bambina che non sapeva odiare che racconta la sua vita dopo la terribile esperienza che ha vissuto nel campo di concentramento Auschwitz-Birkenau dove è arrivata con sua madre a tre anni. È con noi Lidia Maximovic. Sì, Lidia, buonasera. Grazie. Eccolo qua, scritto con il giornalista di Repubblica, vaticanista, scrittore Paolo Rodari, l'editore è Solferino, la bambina che non sapeva odiare. Come ha detto Filippa, le parole che ascolteremo sono parole speciali, particolari, sono parole necessariamente frammentarie come le visioni che può avere un bambino. Una bambina che allora non aveva nemmeno quattro anni e che fu deportata da Auschwitz perché sua madre Anna e suo padre Alexander erano partigiani in Belorussia. La signora Maximovic non è ebrea, l'è diventata di adozione, dice lei. I suoi genitori erano appunto partigiani e per questo furono portati ad Auschwitz. Così piccola, nell'inverno del 43, nel dicembre del 43, qual è il primo ricordo del suo arrivo ad Auschwitz? Si potrebbe dire che un piccolo bambino non può sapere molto, non può ricordarsi molto, però sono stati dei momenti così violenti che rimangono dentro di me fino ad oggi perché non riesco a scordarmeli, non riesco a dimenticare. Che cosa accadde quando arrivò? Ancora in quei momenti non riuscivo a capire dove mi trovavo e perché mi hanno lasciato i miei cari. Sono arrivata in un carro bestiame con la mamma, mio padre e i nonni. E poi foste subito separati. Sì, proprio così. Quando questo carro bestiame si è fermato, dopo alcuni giorni di un viaggio molto difficile, quando hanno aperto la porta ho visto un scenario terribile e ho sentito un sapore molto strano che era il fumo che proveniva dai forni crematori. Di cui ancora lei non conosceva il significato naturalmente dell'esistenza. Ho letto che lei dice faceva molto freddo. E proprio così faceva molto freddo perché era dicembre del 1943 e c'era un gelo sotto i 20 gradi di Celsius. Poi i bambini vennero messi nella baracca dei bambini, quindi separati dai loro genitori. Le madri furono rasate a zero, picchiate, spogliate. Sì, proprio così. E io ho visto tutto ciò e me lo ricordo perché sono stati dei momenti molto difficili. Il fatto di essere staccata da mia mamma è stato veramente doloroso. La baracca dei bambini, lei dice che non se la può dimenticare, nel senso che in quella baracca c'erano già i bambini che erano arrivati prima di lei, magrissimi, sporchi, cattivo odore dappertutto, gli occhi grandi che uscivano fuori dal corpo ormai macilento. Sì, proprio questo me lo ricordo molto bene. Io sono finita proprio in questa baracca, in un letto dove sono stata proprio conficcata dentro come una in più. In questa baracca c'erano i bambini che venivano adoperati da Mengele per i suoi esperimenti. È toccato anche a lei? Sì, anch'io sono stata una vittima dei suoi esperimenti. Sono stata scelta perché proprio in questa baracca si trovavano i bambini che erano stati prescelti dal dottor Mengele in persona per i suoi esperimenti. Il dottor Mengele veniva nella baracca a scegliervi, quindi voi vi nascondevate istintivamente? Sì, proprio cercavamo di trovare un nascondiglio proprio in basso dove c'era il calcestruzzo soltanto per non essere visti da lui. Mi comportavo in questa maniera proprio perché avevo visto che così si comportavano i bambini che erano lì quando sono arrivata pure io. Lei dice che da sotto questi tavolati dove dormivate si nascondeva e vedeva passare gli stivali lucidi. Sì, proprio così. E quando chiudevo gli occhi mi sembrava che nessuno avrebbe potuto vedermi, avrebbe potuto riconoscermi. Questo è stato veramente puerile. Poi lei venne scelta, come diceva, per gli esperimenti e si ricorda, in realtà ne aveva coscienza dopo, perché gli occhi dice le bruciavano dopo l'esperimento. Lei non sapeva che cosa le hanno fatto, non sa che cosa le hanno fatto, però aveva sul suo corpo dei segni. Sì, proprio il mio corpo mi dava delle informazioni, mi parlava come se fosse. Poi ho saputo che sono stati dei test dei vaccini ordinato dalle fabbriche farmaceutiche tedesche. E così come dopo il vaccino il mio corpo aveva delle pustole, ci prendevano anche il sangue e al posto del sangue ci iniettavano il sale fisiologico. Diventavo quasi trasparente. Ricorda anche sua mamma, Anna, a strisciare fino alla baracca dove lei era rinchiusa. Sua mamma dalla sua baracca riusciva a strisciare, ad arrivare da lei ogni tanto per portarle qualcosa da mangiare, ma soprattutto per farle ripetere il suo nome. Sua mamma voleva che lei avesse memoria del suo nome. Le diceva ti chiami Lidia. Sì, proprio così. Io mi ricordo di tutto questo, ma non mi ricordavo più il suo viso, mi ricordavo invece solo le sue mani. che mi portavano le cose da mangiare, che io divoravo senza voler condividere con altri bambini. Tra di noi bambini non c'era né solidarietà, né amicizia. Era una lotta istintiva di sopravvivenza per la vita. Poi un giorno arrivò una notizia terribile. Le SS avevano deciso di sgombrare l'ospedale dove lei si trovava e quindi quei bambini dovevano essere gasati. Sì, proprio così. Sua madre invece riuscì ad intervenire, agì distinto, prese questa bambina, sua figlia, la avvolse in uno straccio come se fosse un pacchetto della spazzatura da buttare, la fidò a un assistente che fingesse di dover buttare un pacco della spazzatura e in questo modo questo assistente che si prestò coraggiosamente, rischiando a questo gesto, riportò la signora Lidia, riportò quella bambina nella baracca dei bambini e si salvò. Sì, proprio così, e proprio in questa maniera mi sono salvata perché mi sono ritrovata su questo tavolato dove stavo prima, dove c'era solo un po' di palia marcita. Questi tavolati erano pieni di insetti, quasi come se qualcuno li incollasse lì, che erano attivi soprattutto di notte, che non ci lasciavano dormire. Dopo la liberazione di Auschwitz la signora Lidia non trovò più la sua mamma, fu adottata da un'altra donna, la signora Bronislava, che fu la sua mamma adottiva, ma la mamma naturale non smise mai di cercare la signora Anna, solo che la mamma naturale la cercava in Unione Sovietica, invece la signora Lidia era rimasta in Polonia. però a un certo punto, grazie alla Croce Rossa, c'è questo ricongiungimento. Nel 1962, in Unione Sovietica, ci sono queste bellissime foto nel libro, guardate. Un dolore senza fine, un dolore di tutti, un dolore di Lidia, un dolore della mamma naturale, la signora Lidia che pensava che la mamma non l'avesse mai cercata, non si capacitava del perché, non si fossero ancora viste. La mamma adottiva che aveva paura di perdere sua figlia a quel momento, deve essere stato molto difficile per lei. Sì, è stato molto difficile, perché entrambe le mamme mi volevano bene e ognuna di loro voleva avermi per sé. Hanno parlato tra di loro e si dicevano che io non te l'ho messa davanti alla porta, ma io non la potevo lasciare su questi tavolati e perché forse la sua fine sarebbe stata diversa e ancora peggiore. Poi lei ha scelto di vivere dove, signora Lidia, dopo tutto ciò? Dopo questo grande incontro, dopo questo grande incontro in Unione Sovietica di allora, ho visto che non avrei potuto ritrovarmi in quel paese. che non trovavo più le mie radici e quindi sono stata cresciuta in una famiglia cattolica, patriottica, polacca. E lì è rimasta. E lì sono rimasta perché sapevo che lì era il mio posto e il campo di Auschwitz che sono riuscita a sopravvivere, a salvarmi proprio grazie alla divina provvidenza. All'Auschwitz la signora Lidia poi è tornata con la sua mamma naturale. La signora Lidia è molto attiva nella memoria e qui per la memoria appunto delle vittime di Auschwitz e ancora oggi appunto fa da guida, porta i bambini in visita con un coraggio incommiabile. L'incontro con la mamma naturale è avvenuto 17 anni dopo ma per tanto tempo oltre al dolore sono rimaste anche delle abitudini che aveva imparato nel campo. Lei per molto tempo dice che nascondeva il cibo dovunque fosse, anche quando non ce n'era bisogno nella sua vita ha continuato a prendere cibo e nasconderlo per paura che qualcuno glielo portasse via o per avere comunque una scorta. Sì, fino ad oggi questo mi è rimasto. Ancora oggi? Per me è impossibile e oggi si può fare. Io devo avere delle scorte, devo avere delle scorte di cibo. Il suo libro scritto con Paolo Rodari si intitola La bambina che non sapeva odiare. Lo dico ai genitori che ci stanno guardando. Leggiamolo ai nostri figli. Leggiamolo ai nostri figli. Ne parliamo anche con Liliana Segre che saluto e a cui mando un abbraccio affettuoso in questa circostanza. Non è facile non odiare ma se si continuasse a odiare si sarebbe per certi versi uguale ai propri carnefici. La differenza consiste in questo ma è molto difficile riuscire a non odiare. Questo è il mio motto e la mia parola d'ordine che è stata espressa anche in questo libro. Io qualora odiassi qualora aspettassi una vendetta avrei sofferto molto di più di quelli che mi hanno arrecato i danni. La prefazione del libro è tratta da alcune parole di Papa Francesco che la Signora Lidia incontrerà fra qualche giorno per la seconda volta perché il primo incontro è avvenuto già con Papa Francesco a cui lei ha mostrato il numero che lei ha tatuato sul braccio e Papa Francesco ha fatto una cosa istintiva e incredibile come è lui un uomo assolutamente speciale. È proprio il vero Papa Francesco lui è così ma veramente non mi aspettavo nonostante tutto un gesto simile. Che cosa ha fatto Papa Francesco? Lui si chino ho visto le lacrime nei suoi occhi e ha baciato questo mio numero tatuato nel campo e io penso che questo fosse un omaggio offerto da questa meravigliosa persona a tutti i bambini tutti i bambini i quali durante la seconda guerra mondiale persero la vita in diverse circostanze signora che cos'è questo che lei mi ha portato questo è un vaso un vaso di terracotta che è prodotto è fatto in quel posto dove è iniziata tutta la mia vita italiana a Castelmonte sono a Castelmonte è una cittadina molto bella vicino alla valle d'Aosta dove il mio connazionale Giovanni Paolo II ha avuto modo di riposarsi di andare in vacanza e lì ho incontrato della gente molto amichevole con la quale ho molti contatti e più volte sono stata invitata proprio a Castelmonte signora Lidia grazie per essere stata con noi questa sera grazie per le sue parole grazie per aver avuto tempo per noi l'abbraccio forte con con molto molto affetto so che lei tiene ancora a dire una cosa però una cosa in questo momento in cui si avverte di nuovo un ritorno un ritorno vorrei soprattutto ringraziare vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo libro vorrei ringraziare il talento del dottor Rodari e ringraziare anche il signor Roberto Faletti che è stato che ha dato l'inizio a questi miei incontri in Italia poi mi diceva voleva rivolgere ancora delle parole al pubblico italiano in questo momento in cui sembra che l'odio stia tornando sì purtroppo siamo testimoni della rinascita dei nazionalismi dell'antisemitismo di questo disprezzo di un uomo verso gli altri ciò non dovrebbe più accadere durante tutti i miei incontri a Cracovia presso il museo Galizia io rivolgendomi ai giovani dico guardate è proprio nelle vostre mani il futuro di questo mondo e dipende da voi come questo mondo sarà quindi non potete permettere affinché tutto ciò che è successo in questo posto possa ripetersi grazie e questo per voi vorrei regalare un vero foulard che portano coloro che sono sopravvissuti ad Auschwitz e anche questo libro per offrire le cose più care che ho nella mia vita grazie 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 molte ringrazio tutti voi grazie signore e signori grazie grazie